Ho tanto parlato di lei, Catherine, e è assai impaziente di conoscerla un po' meglio. Ma... ma lei no, vero Jim? Ah, eccolo. Buongiorno, signor Jim. Bisogna pronunciare Jim all'inglese e non Jim come diciamo noi. Non suona giusto per lui. Che cosa ne pensa del nostro Tomà, Jim? Possiamo uscire con lui? Eh, mica male, dico sul serio. Forse un'ombra di bar. E adesso la provo su strada. Scusi, mi fa accendere, per favore? Grazie, signore. Catherine era felice come una bambina per quella sua trovata. Jim e Jules erano commossi, ma non sapevano nemmeno loro perché. Sto sognando o piove davvero? Forse tutte e due. Allora, se piove andiamo tutti al mare. Si parte domani. Ho voglia di correre. Ci state a fare una gara? Al primo che arriverà in fondo alla passerella. Attenti, pronti? Uno, due, oh. Tomà, lei ha imbrogliato. Ma ho vinto. Tomà vince sempre. Parla tre lingue, nuota come un pesce. Sa camminare con i piedi per aria? Lei gli insegnerà. Signor Jim, vuol venire domani a casa mia per aiutarmi a portare i bagagli alla stazione? Quanto è strana, Catherine. È di origine aristocratica da parte di padre, popolare da parte di madre. Il suo padre discende da vecchia famiglia della Borgogna. Sua madre era inglese, perciò lei ignora le vie di mezzo e insegna a quelli che la guardano. Cosa insegna? Shakespeare. Jim la considerava talmente di Jules che non cercava nemmeno di farsene un'idea precisa. Il tranquillo sorriso tornava ad apparire sulle labbra di Catherine. Ella era così naturale. La esprimeva tutta. Perciò lei ignora la Borgogna. Perciò lei ignora la Borgogna.